Salve, in questo video verremo a conoscenza di cose nascoste sulla canzone italiana di J-Ax e Fedez. Cos'è italiana? Italiana è una canzone italiana realizzata dalla ormai diventata band italiana Fedez e J-Ax. Bene, ma vi starete chiedendo cosa nasconde? Ora ci arrivo, però dovete guardare il video fino alla fine. Allora, parto dicendo che Federico, cioè Fedez, ha chiesto a Gennaro, cioè J-Ax, di fare una canzone italiana per rendere italiana tutta la costellazione degli universi universali. Quest'estate Fedez e J-Ax forse riusciranno a rendere italiana la costellazione universale. Infatti la canzone fa proprio Italiana! L'estate... mettimi l'autotune però! Ok Italiana! L'estate che cerchi non è lontana! La gente per nulla lo sai si colora! Se vieni dal mare ti stiamo aspettando con la sciarpa alla gola! State attenti perché è una cosa pericolosa, eh! Qua non si scherza, eh! Se dovessero modificare tutto in versione italiana, anche le canzoni estere cambierebbero. Tipo, la canzone My Heart Will Go On di Celine Dion diventerebbe Vicino, lontano, ovunque tu sia Io credo che il cuore va avanti Ancora una volta apri la porta e sei qui nel mio cuore E il mio cuore continuerà Non va proprio bene, eh! Dovete sapere anche che la canzone di J-Ax e Fedez è una piccola canzone, cioè una cantina. Cantina, punto esclamativo compreso, contiene otto lettere, o caratteri, come dir si voglia perché c'è il punto esclamativo. J-Ax e Fedez contengono OTTO LETTERO! E non è finita qui! C'è anche la canzone famosissima di DJ Matrix! Ve la canto! E' la tipica cantina italiana Che a volte può sembrarti strana La trovi sotto terra con polvere ovunque E' la tipica cantina Vedete? Questo è quanto! Non spaventatevi! Io proverò a sistemare tutto! Almeno ci proverò! Il video è finito! Ovviamente è ironico, è tutto finto Lascia un mi piace, un commento, condividi il video e iscriviti Se arriviamo a mille mi piace a questo video Canterò la canzone di Celine Dion Completamente in italiano e anche rivisitata da me Ciao a tutti da Avvisto Avvistato Ciao a tutti!